Ciao, ciao, ciao a tutti. Dunque, questa è una cosa che in pochi lo sanno, ma io sono cattiva. Io lo dico che sono cattiva. Comunque, sono ancora più cattiva di quello che potreste pensare. Perché dovete sapere una cosa. C'è chi mi ha chiamato stronzetta, non soltanto per una piccola vendetta che ho fatto, ma no, io non sono stronza, perché gli stronzi, secondo me almeno, fanno del male per primi. Io faccio del male per vendetta. Quindi lui mi aveva trattato molto male e io l'ho sistemato. Comunque volevo dire che non è molto carino chiamare qualcuno stronzetta. Primo perché ti posso denunciare, secondo lo farei molto volentieri per farti abbassare la crestuccia. Quindi in questi giorni penserò se di denunciarti o no. Giusto per farti capire che la sottoscritta non è la prima troietta che trovi per la strada. Io ti faccio un culo così se mi incazzo. Comunque penserò sul da farsi. Se riceverò delle scuse potrò pensare al contrario, altrimenti io ti posso anche denunciare dall'estero. E tra l'altro, diciamo che ho avuto dei problemi all'inizio quando sono venuta qua in Germania e mia madre non lo sa, lo saprà da questo video. Sono andata dalla polizia, ho denunciato una persona e ho fatto molto bene a farlo. Non ci sono state conseguenze. Ciao mamma, sono ancora qui. Non solo, questo è un video confessione per quanto riguarda una cosa che ho fatto molto tempo fa. Perché sono proprio cattiva. Diciamo che adesso posso dirlo perché sono passati qualche anno. C'era stata una persona che si era comportata molto male con me, un americano. Solo che non aveva fatto i conti sul mio tipo di carattere. Io in quel periodo stavo finendo il dottorato, quindi lui ha pensato di mollarmi un mese prima di finire il dottorato. Che uomo simpatico! Io ho studiato come una pazza e nei momenti di crisi ho giurato finita. Vedete che è arrivata perché innanzitutto dopo che ho finito il dottorato ho fatto un mese di festa, così giusto per rilassarmi e poi per togliermi l'ultimo sessolino che avevo nella scarpa. Dunque ho scritto nel suo profilo tutta la verità su di lui. Cioè che lui non era un quarantenne, aveva più di 50 anni, che non era single ma era divorziato e ho messo pure la foto di sua figlia che era uguale a lui. Perché io non ho, come dire, il senso della sconfitta. Io odio perdere, delle volte posso anche perdere, però se posso metterle in culo sono molto più contenta. E ho scritto insomma tutte le bugie che lui diceva su questo sito e casualmente poi ha dovuto cancellare tutto per colpa mia. Poi gli ho anche chiesto come stava, se stava bene o se stava male. Però lui non mi ha risposto, così io me la sono un po' presa e ho scritto tutto alla sua moglie, mandandogli anche le prove del reato. Lei non mi ha mai ringraziato, non mi ha mai risposto, probabilmente perché sarà stata troppo occupata a castrarlo. Ops, quanto mi dispiace, mi dispiace così tanto. Che devo farci? Io sono cattiva. E poi dopo tutto, io come maestra di vita ho la diva del tubo, per cui, che devo farci? Fatemi bene ragazzi!